E' mancato! Che forza! Per questa parte! Sembra divertente, piccolini. Come si chiama questo gioco? Schiva la roccia! Chi non schiva le rocce che cadono è fuori dal gioco. Ops, sono fuori. La pioggia di roccia è finita. È ora di giocare a qualcos'altro. Io ho un'idea. Vediamo chi inventa il miglior gioco nuovo. Ottima! Che ne dite di dondolare? O di ribalsare! O di scivolare veloci! Sì! Hayati, riesci a fare quella forma? Posso provarci! Oh cielo! Oh, ma guarda un po'! Ho ancora una certa elasticità, nonostante tutti questi anni! Guardate il mio scivolo gira e rigira! La super pista di Hayati! Che cosa! Wow! Voglio provare! Anch'io! Io guardo e basta! Sì! Oh! Fa il solletico! Sono velocissimo! Divertitevi, piccoli! Ecco, aspettate che mi sistemi! Attenzione! Stai bene, Bill? Io sì! Ma Hayati! Hayati! Mi dispiace, piccoli, ma credo di aver perso l'equilibrio! Ti sei fatta male? No, no! Sto bene, cara! Ma sembra che io non riesca più a rimettermi in piedi! Aiutiamola! Forza! Spingete! Tiny! Usa la tua fantastica forza da triceratopo! Coraggio, Hayati! Tu vuoi farcela! Forza! Tiny, attento! Stavo per diventare una dino frittella! Temo di essere troppo pesante per voi! Mi dispiace, Hayati! Non ti avrei mai dovuto chiedere di metterti in quella posizione! Oh, è stato un incidente, cara! Chi poteva immaginare che soffrissi il solletico? Tocca lo schermo per vedere altri video e continua a seguire le tue serie preferite su Disney Junior!